Un modello per l'intera regione. L'attuale fotografia ci dice che la scuola è sicura. È il primo commento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, rispetto alle quattro giornate di screening organizzate dal comune nelle scuole superiori pesaresi. 5.104 le persone che sono state tamponate, di queste 4.568 sono studenti e altri 536 sono suddivise tra docenti e personale ATA. In tutto 16 sono risultati positivi, 12 studenti e altre 4 tra docenti e personale ATA. A questo monitoraggio si aggiunge poi quello delle scuole di infanzia e nidi che ha visto sottoporsi a tampone 115 persone, tutte risultate negative. Il sindaco Matteo Ricci parla di esperimento riuscito dopo l'adesione altissima da parte dei ragazzi. È davvero una grande operazione grazie all'Aile, alla Croce Rossa, alla protezione civile, alle scuole. Ovviamente è il comune che ci ha creduto tanto. Sono dati importanti anche perché dimostrano che ad oggi la scuola è abbastanza sicura, sono 16 positivi, però questi 16 positivi se non fossero stati scovati attraverso lo screening ne avrebbero infettati probabilmente qualche centinaio. Quindi è la dimostrazione che questi screening sono fondamentali per non richiudere la scuola, anzi per far sì che i ragazzi possano sempre di più andare in presenza nelle prossime settimane e concludere l'anno scolastico nel miglior modo possibile. Scriverò oggi ufficialmente al Presidente Acquaroli, all'Assessore alla Sanità, ai direttori dell'Asur per chiedere di fare loro questo lavoro per tutti gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie. Ci auguriamo che nel giro di una settimana ci venga risposto positivamente, nell'interesse della scuola marchigiana, positivamente, e se così non dovesse essere noi siamo pronti con le nostre risorse, con questa squadra straordinaria, a fare un altro giro di tamponi tra la fine di febbraio e i primi di marzo, sicuramente nelle scuole superiori e valuteremo anche la possibilità di farlo nelle scuole medie. Un lavoro coordinato da AIL insieme a Croce Rossa, Protezione Civile, Medici e Infermieri. È un buon inizio che va ripetuto, va ripetuto in larga scala, male, non è andato nulla, però cercheremo comunque di migliorarci per dare sempre un servizio migliore. Soddisfatto anche il Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Riccardo Rossini, che ha invitato l'amministrazione comunale a ripetere l'operazione ancora prima delle date ipotizzate dal Sindaco. È davvero un grande risultato, è quello che chiedevamo noi come Associazione Nazionale Presidi, da tempo chiediamo le vaccinazioni per il personale scolastico, ma chiediamo anche lo screening di massa e soprattutto che si ripeta sistematicamente in questo periodo molto difficile, gennaio-febbraio, ogni 15-20 giorni. E rispetto ai due casi di focolai rinvenuti in due scuole medie di Pesaro, Rossini è invitato ad intervenire subito, anche con la chiusura degli istituti, se necessaria. Se necessario bisogna chiudere le scuole, capisco che la fascia d'età è sensibile, stiamo parlando di bambini e quindi anche con difficoltà a tenerli a casa da parte delle famiglie, quindi se non si chiude però si deve andare a tamponare, a verificare e rendere sicure le scuole, isolando i casi, diciamo così, positivi.